Noi proviamo a farlo due per due, voglio vedere se va, se va stiamo a posto Ma non credo Uffa Allora qua quindi facciamo un faucet Smettiamo faucet forse Però ho dimenticato una cosa, un genio Ah Andiamo a prendere l'altra send Praticamente mi sono dimenticato di fare il cast table e quello più grosso Quindi le faccio entrambi Andiamo a prendere l'altra Così se cado posso risalto Poi mi metterò a sistemare tutto Ora no Quasi quasi, adesso continuo a registrare dopo di video in due Anche perché sono già 20 minuti che sto registrando Quindi faccio direttamente 40 minuti e via Potrei entrare, dipende, buono Lo so Quindi se ne avete saluto è per questo Oppure faccio un'altra cosa io Vedrò Quindi un modo farò Cade Cheat qualcuno E bevele che ricca Raccattiamo qua allora facciamo un table e quest'altro quindi dobbiamo fare un altro drain quindi così ma come? l'ho appena fatto da qua ma guarda ma guarda ma guarda ma guarda ma guarda La cosa mi sembra strana Exp XP Ok, basta C'è più nulla Giusto perché non voglio mob nella fornace Ok Un po' piccolina Però si può fare alta quanto non si vuole Quindi non ho problema No A cura Quindi questo E quest'altra Questo lo mettiamo qua E quest'altra No, non lo mettiamo qua Ah no, assolutamente Torna qua Eh sì, vabbè la sendi Che ti mando Ok Me ne mancano 4 10 me ne mancano Un bel po' Un bel po' troppi Ah ok Stavo dicendo Aspetta, c'è un dilemma qua Che è tutto Non basteranno mai nella vita Allora Uno Così Eh vabbè Che era? Sembrava triste Che era Che era Che er, un problema Di Hundra La Qu'è Che ero Qu'è Qu'è Che Cord Hayır Mi mancano ancora altri blocchi Me ne mancano pochi, me ne mancano quattro Me ne mancano tre Ed è finito Quindi me ne mancano tre Così E andiamo a prendere il letto Ripariamo la pala E andiamo a prendere la tassa Tanto poi faremo qualcosa di automatico Adesso non c'è neanche l'energia Quindi non posso fare nulla Perché volendo la send Guardate Send Come la possiamo fare? Vediamo Così non ci interessa Con l'emoceratore lo possiamo fare Con l'alchimia della blood magic Ma non così Non la voglio fare assolutamente così Con la botania però abbiamo bisogno dell'alchimia catalyst Con il pure daisy Possiamo trasformare la soul sand in sand No Pulverizer Sugmin Col vedro Ci va bene Però anche con la cobblestone Con la gravel O col crusher Vabbè lo sludge boiler In caso a parte Devo farmi una forma di gravel Ho detto di gravel Non di te Abbiamo capito che i creeper Sono contrarie a fare un di gravel Tutto apposto Allora Riprendevamo Amminare da quest'altra parte Sembra questa Non volevo scendere C'è una posta Allora A beh Mi piacciono per apprezzare Ok Ok Guarda che Tiamo tutto Forse io Vi do un consiglio Se vedete dei buchi d'acqua Ma uno per uno Non ci andate dentro Non trovate nulla in fondo Trovate solo la bedrock O la morte Dipende Nei casi si potrebbe trovare La morte Ti fa salve Buongiorno Buonasera E buona morte Allora Ah Così almeno se troviamo L'accompagnamento di steel Lo possiamo utilizzare Come steel Tu vai Tu vai Tu pure Crut Vai 40 Ne faccio altre 10 Quindi Dobbiamo trovare La lava Per questo Qua Quindi andiamola a cercare Sulla minimappa Non so Forse dovrebbe essermi comparito Qualche Zona rossa Della lava Controliamo subito J Allora Prima cosa Mettiamo questo Sta più simpatia Auction Automap Missing Praticamente mi bump Tutta la superficie mancante Io comunque già la conosco Non so bene dove sono Le zone che mi interessano A me della lava Però Più o meno la conosco So per esempio Che di qua c'è un villaggio Poi qua torno C'è tutto funghi E poi c'è Il deserto Da questa parte qua Qua ci dovrebbe essere Un totem Della No è qua Qua ci dovrebbe essere Un totem Della 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 Towncraft Qua Eccola qua Lo conosco già Questo mondo Però Vabbè Allora La lava più vicina Qua c'è un cosiddino rosso Ma non sono sicuro Che sia lava Noi siamo Qua 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 c'è lava Facciamoci un tank Allora Che posso Portarmi Un paio di secchi in più No Questa roba non ci interessa Allora Copper O con Leaver Leaver si Mi serve il ferro Lo schieno No Quindi Copper Dovrei averne anche troppi Ma non lo so Mai troppi Infatti Possibile che mi serve Sempre qui Sempre qui Cazzo E' anche tanto Uno Due E tre Così che ci abbiamo Altri Lass Lass E ci facciamo Il buon vecchio tank No No Ne avevo già tre Non serviva Portable tank Ora dovrebbe essere piaciuto C'è della cobble Sono dentro Va bene Come no Via E andiamo a prenderci Un po' di lava Allora Avevamo detto Che si trovava di qua Giusto Ok Eccoci arrivati Alla pozza di lava Anche qua Vai Ce ne prendiamo anche Un secchiello extra E torniamo a casa Ok Eccoci Qua Stavo facendo un po' di Di copper Per il fatto che Mi servirà Mi farei anche un po' di più 16.000 bucket Sono praticamente Un nugget Va bene Un ogget Sì Sono un nugget Adesso Ho messo un blocco di Di copper Prendiamo l'alluminio Un nugget Altri due blocchi Sì Bam Bam E Eccoci questo Ecco qua Volevo fare Un'altra cosa Però non Credo che la farò oggi Tin Iniziamo A mettere Qui dentro Alluminum Brass 16 No Quel nugget Era proprio Quello che mi serviva Perfaccio Puffa Che E O Che non dico niente che è meglio eh 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 vabbè transpo no non trasposare eh transfer no allora liquid fluid non erano i transfer nod erano i transfer nod transposer nemmeno non mi ricordo traslochi tracco 8 però non farlo più almeno 9 però a posto di male è meglio porta chiusa grazie no 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 ok va bene allora vediamo di non fare altro stupido tutta c'è anche l'aeron quanto stavo per dirlo ok e niente dai diciamo che diciamo che per questa puntata ho fatto alcuni spiglietti eh effettivamente è tutto quindi alla prossima ciao ciao adesso mi metterò qua a minare buono magari inizio a fare qualcosa di un altro tipo la botania quindi al prossimo video ad essere bello è bello ma preferirei di no dai indietro e vabbè quindi a domani ciao ciao